Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di interfacce grafiche di GUI. Le GUI sono uno dei principali elementi che vengono utilizzati nelle moderne applicazioni per andare a interagire con gli utenti. Un minimo di storia su come sono state gestite le interfacce grafiche in Java prima di iniziare a focalizzarsi sugli aspetti più tecnici. Nella prima versione di Java esisteva un framework chiamato Abstract Window Toolkit che permetteva di andare a sviluppare interfacce grafiche. Purtroppo questo framework era pesantemente dipendente da quelle che erano le caratteristiche del sistema operativo e quindi era poco efficiente, molto pesante, poco portabile. Successivamente nel 1997 sono state annunciate quelle che erano Java Foundation Classes, ovvero tutto un insieme di classi, tra cui alcune dedicate alla realizzazione di interfacce grafiche. Queste classi sono state introdotte a partire da Java 1.2. In particolare le Java Foundation Classes includono quello che si chiama Swing, ovvero quello che è un Toolkit, un insieme di elementi di widget, dove i widget sono gli elementi grafici che noi andiamo a inserire all'interno di un'interfaccia grafica, pulsanti, aree di testo, etichette, eccetera. Inoltre definisce un insieme di classi e metodi per poter andare a fare un disegno 2D molto efficiente. Queste nuove classi sono leggere, quindi decisamente più efficienti, con un impatto di memoria più ridotto e soprattutto sono indipendenti dal sistema. Successivamente nel 2008 è stato rilasciato un nuovo framework di classi che si chiama JavaFX che era inizialmente orientato al web ed è stato successivamente spostato in modo, portato in modo da poter supportare anche interfacce grafiche stand alone. Nel 2014 è stato inserito nel Java Development Kit 8 e successivamente è stato deciso sempre da Oracle di toglierlo dal JDK. Quindi ha un supporto più o meno costante nella storia, mentre invece Swing dal momento in cui è stato inserito è stato utilizzato in maniera molto ampia per andare a costruire interfacce grafiche e per fornire quelli che sono i widget o controlli o componenti che compongono l'interfaccia grafica. Swing come buona parte dei framework per interfacce grafiche si basa sul pattern model view controller e ha la caratteristica di poter cambiare il look and feel facilmente andando a impostare semplicemente una proprietà del sistema. Che cos'è il pattern model view controller su cui si basano buona parte delle interfacce grafiche. Vale per Swing, vale per JavaFX ma vale per praticamente quasi tutti i framework per interfacce grafiche. Il pattern model view controller è utilizzato ovunque con qualche piccola variante ma sostanzialmente tutti si rifanno a questi principi di base. Model view controller prevede di avere tre componenti fondamentali quando un'interfaccia grafica. Il primo componente viene chiamato model e rappresenta i dati e i metodi per andare a creare, modificare, cancellare e leggere i dati. Il secondo componente view è quello che si occupa di prelevare i dati dal model e visualizzarli in qualche modo. Se sono dati testuali verranno presentati all'interno di etichette, di campi di testo, di tabelle. Se si tratta di dati numerici potrebbero essere rappresentati in maniera grafica ma sostanzialmente la view è quella che in un modo o nell'altro va a recuperare i dati dal model e li mostra all'utente. C'è un terzo componente che è il controller che sostanzialmente è quello che gestisce l'interazione con l'utente ovvero riceve degli eventi che possono corrispondere a azioni sul mouse, azioni sulla tastiera, azioni sul touchscreen, azioni sul touchpad. Qualunque tipo di azione l'utente faccia viene veicolata attraverso questo componente che si chiama controller che riceve l'evento e decide come operare. Potrà operare andando a fare un aggiornamento della view quindi andando a modificare i parametri di visualizzazione oppure potrà andare a operare andando a fare qualche operazione sui dati quindi interagendo con quello che è il modello. Quali sono i principi fondamentali che hanno portato a utilizzare questo pattern? Sostanzialmente l'idea è che una volta che io ho definito un model che sostanzialmente sono tutti gli esercizi che abbiamo svolto finora in questo corso perché noi non abbiamo mai focalizzato l'attenzione sull'interfaccia grafica ma semplicemente sulle funzionalità di base dei dati e delle loro operazioni. Una volta che ho definito il model io posso andare a costruire view e controller in maniera sostanzialmente indipendente. Quindi dato un model io posso avere una view per un'interfaccia stand alone grafica, una view per un'interfaccia via app, una view per un'interfaccia web, una view per un'interfaccia vocale, tutto quello che voglio senza andare minimamente a toccare quello che è il modello. Viceversa io posso andare a modificare gli aspetti intendo il modello purché resti costante l'interfaccia di questo componente ovvero l'insieme di metodi e interfacce classiche vengono utilizzate dalla view senza andare a intaccare minimamente la view. Quindi posso andare a migliorare la rappresentazione dei dati, posso utilizzare un meccanismo di persistenza che salva i dati e li recupera da un database in locale, in remoto, come voglio, la view sostanzialmente continuerà a funzionare perché il modello espone una interfaccia costante. Inoltre il terzo componente, il controller, è quello che gestisce gli eventi. Quindi una volta che io ho un tipo di rappresentazione dato dalla view dei dati che sono definiti dal modello, io posso andare a gestire diversi tipi di eventi e fare tante operazioni senza dover modificare minimamente view e model. Per cui posso aggiungere ad esempio uno shortcut tramite tastiera per un evento e questo verrà gestito dal controller senza interferire in alcun modo con il model o con la view. Quindi l'idea sostanziale è che io posso andare a sviluppare questi tre componenti in maniera abbastanza indipendente, fare modifiche a uno piuttosto che all'altro senza avere ripercussioni su tutto il resto e quindi ho una facilità di evoluzione delle applicazioni scritte in questo modo che vi garantisce una buona manutenibilità delle applicazioni. Una cosa fondamentale da ricordare quando abbiamo a che fare con delle interfacce grafiche è che il flusso di esecuzione non è predeterminato. Quando abbiamo un'applicazione senza interfaccia grafica abbiamo un metodo main che viene eseguito, una serie di istruzioni che vengono eseguite una dopo l'altra e quindi sappiamo che cosa viene fatta dalla nostra applicazione. Nel caso di un'applicazione con interfaccia grafica esiste pur sempre il main ma il main semplicemente ha lo scopo di andare a creare questi tre componenti, model view e controller. Una volta istanziati questi tre componenti e connessi tra di loro il main ha finito il suo scopo. A questo punto che cosa verrà fatta dall'applicazione dipende dagli eventi che verranno ricevuti dall'applicazione, ovvero da che cosa farà l'utente. Quindi le operazioni che vengono complessivamente svolte dall'applicazione non sono determinate dal main ma sono determinate dalla sequenza di eventi che vengono gestite da questa applicazione e quindi da che cosa fa l'utente. Quando devo andare a costruire delle interfacce grafiche solitamente le compongo con un'aggregazione di widget o controlli, i nomi che vengono utilizzati sono vari, ovvero pulsanti, campi di testo, etichette eccetera. L'idea è che io posso prendere questi elementi, li posso disporre all'interno di una finestra e andare a costruire quella che è l'interfaccia grafica. Questo tipo di componenti hanno la capacità di rappresentare per lo più informazioni testuali e quindi sono un po' limitate. Ovviamente ho all'estrema opposto la possibilità di andare a disegnare in maniera grafica direttamente tutto il contenuto della mia interfaccia grafica e quindi posso andare a disegnare punti oppure figure geometriche oppure le singole lettere che compongono il mio output direttamente. Ovviamente questo è molto più complicato e di solito non viene fatto se non per andare a rappresentare dei dati in maniera grafica, quindi non puramente testuale. È decisamente più semplice andare a comporre degli elementi. Quindi abbiamo sostanzialmente due estremi, un estremo in cui io ho la mia applicazione che è data da componenti predefiniti che io vado ad assemblare e disporre all'interno della mia interfaccia grafica, oppure all'estremo opposto ho il disegno diretto di tutti gli elementi che compongono la mia interfaccia. Ovviamente ci sono anche delle vie di mezzo per cui ad esempio se io voglio andare a disegnare qualcosa all'interno di un componente circondato da altri componenti predefiniti ovviamente lo posso fare. Quindi devo andare a considerare queste due tipologie di interfacce grafiche. In ogni caso un'interfaccia grafica si trova all'interno di quello che è un contenitore principale, ovvero quello che rappresenta la totalità della mia interfaccia grafica. Normalmente in funzione del sistema operativo e del tipo di applicazione che sto andando a costruire può esserci un diverso tipo di contenitore per cui per quanto riguarda le applicazioni di desktop stand alone normalmente il contenitore è un oggetto di tipo jframe che rappresenta una finestra di un'applicazione. Posso avere degli applet non più utilizzati ma che venivano posti all'interno di pagine web per andare a creare una porzione interattiva, posso avere dei midlet per telefoni che abbiano l'applicazione java, posso avere quelle che sono le view per applicazioni android, quindi ho un contenitore e al suo interno vado a mettere degli elementi. Ovviamente in funzione del contenitore poi andrò a mettere dentro elementi che sono coerenti con la tecnologia del contenitore per cui jframe è il contenitore predefinito per quello che è il frame of swing. Quindi jframe rappresenta abbiamo detto il punto di partenza per qualunque interfaccia grafica stand alone, desktop e mi fornisce una serie di componenti base ovvero la barra del titolo, i pulsanti standard di minimizzazione, massimizzazione o chiusura, un bordo che può essere ovviamente ridimensionabile e le caratteristiche di base di quella che è una interfaccia grafica normale. Il modo più semplice di andare a creare una interfaccia grafica è quello che vediamo in questo esempio. In pratica creiamo un oggetto di tipo jframe, andiamo a impostare il suo titolo, andiamo a impostare le dimensioni, andiamo a definire quella che è l'operazione che viene fatta in chiusura ovvero quando premo il pulsante di chiusura e faccio un'operazione di set visible rendendo visibile la mia finestra. Questo crea la finestra che vedete qua. Ovviamente se ripetete queste operazioni sul vostro sistema operativo, se è diverso da quello su cui ho catturato questa finestra, avrete un risultato leggermente diverso perché normalmente per default quando creo una finestra questa viene creata utilizzando quello che è lo stile del sistema operativo su cui state operando. Quali componenti posso utilizzare all'interno di un'interfaccia grafica? Beh, dipende da che cosa devo fare. In generale tutti gli elementi quindi pulsanti, etichette, pannelli, contenitori, liste eccetera derivano tutti da una classe di base che si chiama jcomponent. Ovviamente oltre a questa classe c'è la classe jframe che abbiamo appena visto e quindi tutti questi elementi possono essere utilizzati per andare a costruire, assemblare quella che è l'interfaccia grafica. Il primo componente che ci viene in mente è il pulsante che ha un costruttore vuoto che crea il pulsante ovviamente senza etichetta oppure un costruttore con una stringa che va a mettere quell'etichetta all'interno del pulsante che noi poi vediamo. Abbiamo delle etichette in cui posso andare a specificare oltre alla stringa contenente il testo dell'etichetta anche una costante che può essere left, right o center, queste costanti predefinite che permettono di specificare quello che è l'allineamento del mio testo. Ho la possibilità di andare a inserire dei dati utilizzando un jtextfield. Quando ho un jtextfield io posso andare a crearlo semplicemente e quindi mi viene creato un textfield con una dimensione minima predefinita. Posso andare a specificare una lunghezza e quindi mi viene dato uno spazio in termini di caratteri che possono essere visualizzati all'interno del textfield. Posso andare a mettere semplicemente una stringa che è la terza opzione per cui il textfield verrà creato con una dimensione tale da contenere esattamente quella stringa oppure posso mettere una stringa più una dimensione per cui il textfield verrà ridimensionato in modo da poter contenere quel numero massimo di caratteri. Ovviamente io ne posso scrivere di più ma ovviamente non saranno visibili tutti contemporaneamente. Il jtextfield viene utilizzato per andare a inserire un'unica linea di testo. Se ne voglio inserire più di una devo utilizzare un jtextarea in cui posso andare a specificare il numero di righe e di colonne che io voglio andare a mostrare ed eventualmente un testo che è il valore iniziale mostrato all'interno di questa jtextarea. Sia jtextarea che jtextfield hanno i metodi get e settext che permettono di leggere e scrivere il contenuto dell'area, della label e anche del field. Posso avere dei metodi append o insert per andare a codare del testo oppure inserirlo in una certa posizione data e per quanto riguarda la jtextarea posso andare a decidere come viene fatto la capo. Per default non viene fatto nessun a capo ma io posso andare con setlightenwrap a impostare la capo a true e in questo caso raggiunto il limite destro della mia textarea si va a capo. Normalmente se non dico nulla la capo viene fatto a livello di singola lettera ma posso impostare a true il wrap style word e in questo caso la capo viene fatto parola per parola senza spezzettarle. Ovviamente le parole vengono identificate dagli spazi per cui se non ho delle spaziature di nuovo non riesco a fare l'operazione di a capo correttamente. Come vedete in questi esempi la jtextarea non ha delle barre di scorrimento, per esempio orizzontali qua, la barra di scorrimento è un qualcosa che io posso andare ad aggiungere come decorazione utilizzando quella che è la classe jscrollpane. Questa classe è una classe pensata per andare ad aggiungere le barre di scorrimento a componenti che automaticamente non ce l'hanno. Quindi se io voglio andare ad aggiungere delle barre di scorrimento per una textarea, quello che posso fare è andare a fare, a creare un nuovo jscrollpane e passare al suo costruttore come parametro una textarea. Questo sostanzialmente crea un componente che poi andrà ad avere le barre di scorrimento e al suo interno la textarea. Oltre al jscrollpane ovviamente abbiamo delle liste, quindi la classe jlist a cui posso passare un array di oggetti le cui etichette, ovvero il risultato del metodo toString, verrà mostrato nella lista e ovviamente ho la possibilità di andare a selezionare un elemento. Anche in questo caso se voglio avere lo scorrimento devo utilizzare uno jscrollpane e poi checkbox e radio button che hanno possibilità di specificare un'etichetta e un valore booleano che mi dice se quel checkbox o radio button è selezionato. Due metodi che mi permettono di andare a verificare se un elemento è selezionato o impostarlo come elemento selezionato. Quando io ho dei radio button, normalmente questi sono utilizzati in maniera mutuamente esclusiva, quindi soltanto uno di un certo gruppo è attivo. Per permettere questo tipo di gestione è necessario utilizzare un oggetto di tipo button group a cui aggiungo i jradio button e questo oggetto andrà a garantire che soltanto uno o al più uno dei radio button sia effettivamente selezionato. Oltre ai componenti che posso mettere all'interno della jframe ho la possibilità di andare a creare delle dialog box, quindi delle piccole finestrelle che sono legate all'interfaccia principale che mi permettono di andare a fare la conferma di messaggi, inserire dei dati, scegliere delle opzioni. Queste possono essere create tramite dei metodi statici definiti all'interno della classe joption pane. Per cui ad esempio se io voglio andare a mostrare un messaggio posso utilizzare il metodo show message dialog a cui passo un parametro che è l'oggetto frame di riferimento, normalmente la dialog è legata a una frame principale quindi viene mostrata in posizione centrale rispetto a questa frame e il messaggio che voglio andare a mostrare. ovviamente viene mostrato un'etichetta che può essere specificata più in dettaglio passando un costante che mi dice se voglio mettere un information message, un error message, un warning message e un plain message e questi mostreranno delle icone diverse all'interno della dialog box, eventualmente nessuna nel caso di un plain message. Ovviamente queste icone dipendono dal sistema operativo e quindi possono variare. Ho anche la possibilità di scegliere tra diverse opzioni con il metodo show option dialog in cui ho tre principali opzioni quindi il tipico sì, no, cancel. In realtà io non ho semplicemente sì, no o cancel ma posso andare a specificare le etichette di questi tre pulsanti che verranno mostrati all'utente. Infine ho la possibilità di andare a avere un input di un semplice valore testuale con show input dialog in cui posso andare a specificare ovviamente il componente che è la frame a cui è legato il dialog, un oggetto la cui etichetta, la versione stringa verrà mostrata qui ed eventualmente una stringa col valore iniziale e un int che mi dà il numero di caratteri che verranno mostrati. Come faccio a disporre i miei elementi all'interno di una finestra? Allora, normalmente io potrei andare a specificare le coordinate specifiche di ogni elemento all'interno di una finestra però questa operazione è molto complicata quindi richiede di andare a selezionare le posizioni con molta attenzione a disporre gli elementi uno per uno e soprattutto può portarmi dei problemi nel momento in cui io voglio andare a ridimensionare la mia finestra. Per questo motivo il framework Java per le interfacce grafiche mi mette a disposizione quelli che sono dei layout manager. Un layout manager è sostanzialmente un oggetto di una classe che implementa un oggetto di una classe che implementa layout manager che definisce i criteri con cui andare a disporre gli elementi all'interno della finestra e il criterio con cui andare a ridimensionare gli elementi all'interno della finestra. Il layout più semplice si chiama flow layout e sostanzialmente dispone gli elementi che noi aggiungiamo alla finestra in righe quindi sostanzialmente inizia dall'angolo in alto a sinistra inizia a mettere tutti gli elementi finché ci stanno sulla riga dopodiché va a capo e inizia a disporre gli elementi sulla riga successiva. Ovviamente io posso specificare l'allineamento centrato come in questo caso e il gap quindi la spaziatura orizzontale e verticale tra gli elementi che vengono disposti tramite il flow layout. Il vantaggio di utilizzare un layout è per l'appunto che nel momento in cui vado a ridimensionare questa finestra gli elementi vengono riposizionati finché ci stanno oppure vengono messi a capo se non ci stanno più. Un altro layout molto semplice è quello che si chiama grid layout che divide la nostra finestra o il nostro componente in righe e colonne il cui numero è specificato come parametro del costruttore e va a disporre gli elementi riga per riga uno sotto l'altro. Ovviamente qui le dimensioni delle righe e delle colonne sono fisse a differenza del flow layout e quindi gli elementi sono disposti in maniera equidistanziata. Un altro tipo di layout, anche questo abbastanza semplice, è quello che viene chiamato border layout che prevede 5 aree mentre per il flow layout e per il border layout il numero di elementi può essere vario nel caso del border layout è fisso e si tratta di 5 elementi. C'è una posizione nord, una sud, ovest, est e una posizione centrale a cui posso aggiungere i miei elementi e andando a specificare la posizione in cui voglio aggiungere gli elementi all'interno del mio componente. Ovviamente questi sono abbastanza semplici e molto rigidi, esiste un ulteriore layout che si chiama grid bag layout che permette di andare a definire una griglia ma molto flessibile perché le dimensioni delle righe e delle colonne possono variare, gli elementi possono occupare più celle della griglia e gli allenamenti possono essere fatti in maniera molto flessibile all'interno delle singole celle ed eventualmente la spaziatura all'interno della cella può essere specificata. Non entro ulteriormente nel dettaglio ma vi mostro un semplice esempio di come posso andare a costruire questo tipo di interfaccia in cui ho 5 elementi, vedete che questo è centrato rispetto alla finestra, questi sono con dimensioni diverse utilizzando un grid bag layout. L'idea è che io vado a dividere la mia finestra in una griglia, ho alcuni elementi che stanno in singoli elementi vedete che la prima colonna è più stretta della seconda, le righe hanno tutte le stesse dimensioni e l'ultimo elemento, il button, si trova a occupare due celle contigue di una riga. Come vengono disposti gli elementi all'interno di un grid bag layout viene specificato tramite elementi di una classe che si chiama grid bag constraint che ha dei attributi che permette di andare a spiegare specificare la cella in termini di coordinate x e y, lo spazio ovvero quante celle in orizzontale e in verticale vengono occupate, il peso della riga o della colonna che quindi può cambiare in funzione di quali righe e quali colonne vengono utilizzate, l'ancor quindi all'interno della cella dove viene posizionato il nostro elemento, se l'elemento deve essere espanso per occupare l'intercello oppure no, gli spazi interni e il padding verticale e orizzontale. Tornando al pattern mode view controller, sostanzialmente i componenti che noi utilizziamo permettono di andare a costruire la view, il layout permette di andare a disporre gli elementi, ovviamente resta da capire come andare a gestire quello che è il controller, ovvero come andare a gestire quelli che sono gli eventi che vengono originati dall'interazione dell'utente con la nostra interfaccia. Dobbiamo cioè capire come funziona quello che in Java viene chiamato l'event delegation model. Allora, in generale gli eventi vengono classificati in base a dei tipi, quindi abbiamo degli eventi legati al mouse, degli eventi legati alla tastiera, degli eventi legati ad azioni più di alto livello, ad esempio la selezione di un elemento da un menu, il clic su un pulsante, che sì sono legati ovviamente a azioni del mouse, ma di solito è più semplice gestire come eventi più di alto livello. Gli eventi quindi vengono generati da un'interazione dell'utente con un elemento che abbiamo inserito all'interno dell'interfaccia grafica e vengono generati e vengono delegati, la loro gestione viene legata a quelli che si chiamano degli handler o nella terminologia più specifica Java dei listen. Quindi quando viene rilevato un evento dell'interfaccia grafica, un thread particolare dedicato alla gestione dell'interfaccia grafica cosa fa? crea un oggetto evento che descrive che cosa è avvenuta e manda un messaggio, quindi chiama un metodo opportuno, a tutti quelli che sono i listener registrati per gestire quel tipo di evento su quel dato componente. I listener sostanzialmente implementano un'interfaccia che permette di fare un'operazione di callback. In pratica, inizialmente, dato un elemento grafico, verrà fatta un'operazione di add listener, ad esempio add action listener per registrare il click su un pulsante, a cui verrà legato un oggetto di tipo listener, che implementerà un'interfaccia opportuna e definirà un metodo adatto. Quando a un certo punto avviene un evento, ad esempio il click sul pulsante, all'interno dell'oggetto button che riceve questo click, verrà creato dal thread di gestione dell'interfaccia utente un oggetto che descrive l'evento e verrà chiamato il metodo opportuno, action performer in questo caso, su quello che è il listener. In Java ci sono diversi tipi di eventi. Abbiamo gli eventi di tipo action, che sono eventi semanticamente complessi e più di alto livello. Abbiamo degli eventi di adjustment, ad esempio il movimento su una scroll bar, degli eventi di focus, quando io cambio il focus su un diverso elemento, degli eventi di tipo item, quando vado a selezionare o deve selezionare elementi, ad esempio di radio button o check box o anche delle liste, ho i key event, quando effettivamente interagisco con la tastiera, ho dei mouse event, quindi quando faccio il click o i movimenti, oppure ho i mouse motion, quindi quando faccio lo spostamento di un mouse, molto semplicemente, e infine ho quelli che si chiamano i window event, che permettono di andare a gestire gli eventi che riguardano una finestra, ad esempio il ridimensionamento oppure il click su dei pulsanti di minimizzazione, chiusura o riduzione icono. Di conseguenza, per ognuno di questi eventi avrò un'interfaccia deputata a ricevere questo tipo di segnalazioni. Per cui, ad esempio, esiste un'interfaccia ActionListener che definisce un metodo ActionPerformed che riceverà un evento di questo tipo. Ho un FocusListener che è un'interfaccia che definisce due metodi, FocusGained e FocusLost, quindi oltre ad avere la specifica classe di un evento, posso avere anche diversi metodi che permettono di andare a distinguere più nel dettaglio il tipo di evento. Quindi un FocusEvent può essere un FocusGained o un FocusLost, e questi due tipi di eventi vengono distinti tramite chiamate a due metodi diversi. Quindi un ItemListener avrà un metodo che si chiama ItemStateChanged, a cui passo un ItemEvent, e andrà a descrivere che cos'è cambiato rispetto allo stato di un certo Item, ad esempio di una lista o di un checkbox. Poi ho un MouseListener che è in grado di gestire eventi di tipo MouseEvent, che possono essere Clicked, MouseEnter, MouseExit, rispetto all'area di un componente grafico, MousePressed e MouseReleased, con il click e il rilascio di un tasto del mouse. E poi ho il MouseListener quando io faccio un drag di un elemento, oppure semplicemente quando muovo il mouse su un'area. Ho poi i KeyListener che permettono di gestire dei KeyEvent, in particolare KeyPressed, KeyReleased e KeyTyped. La differenza è che Press quando io premo un tasto, Release quando lo rilascio, e KeyTyped è un evento un po' più generale che permette di andare a gestire la combinazione delle due. E poi abbiamo il WindowListener che gestisce il WindowEvent e permette di andare a distinguere tra WindowActivated, WindowClosed o WindowClosing, quindi ho chiuso la finestra oppure sto per chiudere la finestra, WindowDeActivated, WindowDeIconified, WindowIconified e WindowOpened. E quindi posso gestire dei Listener definendo dei metodi che gestiscono tutti questi tipi di eventi. Come faccio a testare delle interfacce grafiche? E questa è un'operazione abbastanza complicata. In generale posso utilizzare due approcci diversi, un approccio dall'esterno e un approccio dall'interno. L'approccio dall'esterno prevede di andare a gestire gli eventi direttamente dal sistema operativo andando a generare i click o qualunque cosa il sistema operativo gestisca, riceva e poi rigiri alla nostra applicazione. Ovviamente questo è un approccio realistico ma è estremamente complesso ed eventualmente dipende dal sistema perché non è detto che le operazioni di click o qualunque altra operazione sia identica da un sistema operativo all'altro. Ovviamente ci sono dei tool specifici che sono in grado di fare quelle operazioni che si chiamano di capture e replay, ovvero catturano tutti gli eventi che io svolgo con una finestra o un'applicazione e sono in grado di rieseguirli successivamente in modo da verificare se l'output è esattamente lo stesso. Ovviamente per utilizzare un tool di capture e replay io devo avere già un'applicazione che funziona sulla quale posso andare a fare queste operazioni. Il test all'interno ovviamente è un po' più semplificato perché non simula tutta la gestione degli eventi che passa dal sistema operativo ma semplicemente si riduce a fare un'invocazione di metodi sui componenti che simulano quello che è l'effetto di un evento per cui ad esempio esiste un metodo do click su un pulsante che permette di fare il click. Ovviamente questo è molto più semplice e indipendente dal sistema ma non è completamente realistico e non porta a gestire tutta l'interazione perché ovviamente quando io faccio un do click semplicemente andrò a chiamare il metodo action perform dei listener registrati su questo pulsante ma non avrò tutta la serie di eventi che potenzialmente portano la posizione del mouse sul button, la pressione del pulsante e il rilascio del pulsante del mouse. Quindi tutto questo ovviamente non ci sarà. Quindi se ci sono delle operazioni che vengono svolte in corrispondenza di questi eventi queste non verranno minimamente esercitate. Inoltre per poter fare un test all'interno devo avere una classe che sia testabile ovvero devo avere i componenti della mia view principalmente ma anche del controller che siano direttamente accessibili quindi siano pubblici e siano visibili da quelli che sono le classi di test. Per cui immaginiamo di andare a gestire una applicazione molto molto semplice e cerchiamo di capire come questa potrà essere testata utilizzando quelle che sono le interfacce che abbiamo a disposizione. Allora iniziamo da quello che è il modello. Immaginiamo di avere una classe counter che ha un attributo value due metodi increment e decrement che permettono di modificarlo e un metodo getValue che permette di leggere il valore. Quando io vado a definire una classe che rappresenta la view andrò a estendere jFrame e andrò a mettere una serie di elementi quindi avrò un pulsante più, una label value, un pulsante meno e poi avrò un riferimento a quello che è l'oggetto counter ovvero quello che è il modello in modo da poter andare a chiamare il metodo getValue per leggere il valore e mostrarlo all'interno dell'etichetta utilizzando il metodo che si chiama update. Ovviamente se io seguo l'approccio standard tutti questi elementi dovranno essere privati ma questo rende l'applicazione non testabile perché nessun metodo di test potrà andare a chiamare il metodo doClick sul pulsante plus per cui devo andare a rendere questi componenti pubblici. Ecco, in questo modo la mia classe risulta essere testabile perché i metodi di test potranno accedere a questi oggetti e andare a fare le operazioni apposite. Per quanto riguarda l'interfaccia possiamo utilizzare una struttura di questo tipo che si basa su un border layout in cui vado a mettere il pulsante più nella zona nord il pulsante meno nella zona sud e un J-label con l'etichetta nella zona centrale. Per quanto riguarda la gestione della visualizzazione sostanzialmente avrò un metodo update che va a prendere quanto messo, quanto presente nel modello quindi model.getValue lo convertirà in stringa e andrà a metterlo come testo dell'oggetto J-label value. Ovviamente la prima volta che andrò a creare il mio oggetto chiamerò il metodo update in modo che venga riportato il valore iniziale. Per quanto riguarda il controller il controller sostanzialmente lo possiamo fare in questo modo avrà due riferimenti il model e la view e poi avrà un metodo action performed in quanto il controller implementa l'interfaccia action listener quindi gestirà le segnalazioni di tipo action quindi di clic sui pulsanti andrà a distinguere il pulsante più e andrà a chiamare increment e altrimenti andrà a chiamare il metodo decrement e in ogni caso dopo aver fatto l'incremento o il decremento chiamerà il metodo update sulla view che scatenerà ovviamente l'aggiornamento del contenuto della nostra immagine quindi l'immagine che rappresenta il valore del modello all'interno della view. Il test può essere scritto in questo modo quindi abbiamo sostanzialmente il metodo di test che crea model, view e controller e poi va a fare un'assertiquals che view.value.getText cioè la label value che si trova dentro la view abbia come valore iniziale 0 poi faccio tre clic sul pulsante plus e mi aspetto che il testo che si trova dentro la jlabel value della view sia a questo punto 3 poi faccio un clic sul pulsante meno e mi aspetto che a questo punto il valore sia sceso a 2 quindi vedete che i metodi doClick per simulare il clic sul pulsante getText per andare a leggere il testo ma eventualmente anche se text per andare a scrivere del testo possono essere utilizzati per fare un test abbastanza semplice dall'interno della nostra applicazione.